Ora che fai? Ci puoi andare dalla sanzione questa? Ci puoi dire otto ore Sia nel passaggio di livello chiuso da mezz'ora E fai tempo a passare, a arrivare lì sul biglio Ma guarda lì, non è l'altra cosa che diceva Lo davanti a parte Corre eh sto merci eh Ecco qua Guardate quello delle liquidazioni Com'è niente, questo è bene quello giapponese E'ima quale Dopo si girano le ruote Che? Non lo so Arrivederci Dopo si girano le ruote